Facciamo un esperimento. Prendiamo tre ragazzi singoli e tre belle ragazze e mettiamo tutti in una casa ma separati. Solo una stanza in comune. Qui si incontreranno sempre e solo al buio. Loro si vedranno così, ma noi li vedremo così. Un nuovo fantastico gioco delle coppie senza luci per vedere davvero se l'amore è cieco. Il bello è che non vedi assolutamente niente. Appuntamento al buio. Ogni mercoledì alle 22 su Cielo.